ben ritrovati in questo appuntamento con con alcuni soci ild per parlarvi fondamentalmente di fisica della luce quello che tenteremo di fare oggi è di fare una lezione utile partendo da una chiacchierata informale tra colleghi partiremo con un minimo di nozioni tecniche su quello che è l'argomento per poi dare ampio spazio proprio al confronto anche perché qui abbiamo esponenti che arrivano dal mondo teatrale come Giuseppe Filippone e Valerio Tiberi specialisti ad oggi anche se il percorso è stato lungo e ha toccato un po' tutti gli aspetti nel settore museale con audio cervelli e abbiamo il sottoscritto che oltre a esercitare come Lighting designer in vari ambiti è anche editor di una rivista di un magazine e quindi conosco abbastanza tutto quello che è l'andamento del mercato e abbiamo tre aziende rappresentate che si occupano dello sviluppo di led e di ottiche quindi con Erika Luca e Mauro. A questo punto io partirai subito con Claudio che ci fa un po' il dotto della situazione e ci dà la giusta via per questa bellissima esperienza. Oggi vi parlerò di cosa vuol dire di quali sono le sorgenti maggiormente usate soprattutto da cosa arriviamo e non preoccupatevi le slide sono poche serve solo per supportare un po' quello che sono i ragionamenti che andiamo a fare e così facciamo anche un po' di sana pubblicità all'Aild visto che questa associazione sta portando avanti la voglia di bello in ambito nazionale internazionale e questa voglia vogliamo continuare a portarla avanti. Parliamo appunto di sorgenti luminose non prendetemi in giro io parto sempre da una volta ma chiaramente la prima sorgente luminosa che l'uomo conosce è il fuoco da lì in poi passi ne sono stati fatti veramente tantissimi il primo gruppo di sorgenti di cui possiamo parlare sono sorgenti a filamento sorgenti a filamento avevano una tonalità di resa calda avevano perché i filamenti di tungsteno non esistono praticamente più già da anni erano stati abbandonati in favore di sorgenti successive che vedremo nelle prossime slide. Ha comunque una tonalità di luce molto calda per chi aveva i termini di temperatura colore 2006-2008 per cui veramente molto aranciata come luce, una buona resa al colore e una distribuzione dello spettro abbastanza uniforme cosa vuol dire che effettivamente i colori che rendeva questo tipo di sorgente erano abbastanza buoni, erano abbastanza reali, non entro nell'ambito della misurazione della temperatura colore perché non è il mio compito di oggi. Gli svantaggi di contro una scarsissima efficienza parliamo di una efficienza compresa tra il 5 e il 10% pertanto tutto il resto di quello che era l'energia elettrica assorbita veniva perso sotto forma di calore. L'altra cosa è la durata di vita molto breve, mille ore per queste sorgenti, dopodiché bisognava cambiarle perché il filamento si interrompeva. È una estrema, veramente estrema sensibilità alle vibrazioni, agli shock sia termici che meccanici, per cui erano lampade che per esempio mosse che sempre andevano un colpo mentre erano in temperatura perché accese già da qualche minuto si rischiava comunque sempre di farle saltare. Il vero problema poi era anche il deposito del tusteno che mollava in giro una serie di piccoli particelle che poi andavano a finire ad opacizzare il vetro interno della lampada, rendendola non più utilizzabile perché la quantità di luce che usciva era sempre meno e soprattutto la quantità di calore che veniva assorbito dal vetro era talmente elevata che spesso lo faceva scoppiare. Il passaggio successivo è stato l'esorgente a filamento però con il gas alogene all'interno. Questo tipo di sorgente che è quella con cui poi abbiamo vissuto quasi tutti noi negli inizi della nostra attività lavora grazie al ciclo degli allogenuri, niente di complicato, il filamento butta fuori delle particelle che si avvicinano sulla parte esterna del vetro che è più fredda e si crea un ciclo per cui vanno a riattaccarsi e a ricomporre il filamento. Ripeto, molto semplice, molto basico, non voglio andare in cerca di grande cose. Il vantaggio di questa tecnologia è che abbiamo una gamma di prodotti pressoché infinita. Vantaggio di poterle alimentare sia a rete, per cui 220-230 volte attualmente, sia a bassissima tensione, chiaramente con la bassa tensione si rende obbligatorio l'uso di un trasformatore, una luce buona, veramente buona, brillante, con una resa cromatica ottima. Un'accensione, una reaccensione immediata, a differenza delle lampade a tungsteno che avevano un'inerzia più lunga e un'ottima regolazione del flusso minoso, un'ottima resa al colore. Ogni tanto noi lighting designer ci chiediamo perché siamo passati a LED, devo essere onesto, avendo una sorgente che aveva talmente tanti vantaggi come questi, però poi vedrete che il LED ha il suo perché, anche perché molto spesso e ultimamente chi produce LED, chi produce apparecchi performanti o nel settore dell'entertainment sta introducendo tutta una serie di svantaggi che avevamo, che però per noi erano parte della nostra creatività. Svantaggi, sicuramente un aumento della durata, anche se l'efficienza rimane sempre contenuta, anche qua un grande sviluppo di calore e un'emissione di UVA non sempre controllato facilmente e non sempre controllabile. Il problema delle regolazioni dava appunto, se veniva utilizzata una lampadina troppo potente rispetto all'utilizzo in cui si pensava di utilizzarla e si regolava sempre molto in dimmerazione, il ciclo degli allogenuri non veniva più mantenuto, si aveva l'effetto di opacizzazione del vetro. Mi interessa far capire questo che è una cosa che tutti noi come lighting designer abbiamo usato, soprattutto nell'ambito degli spettacoli, del teatro, che è la variazione della temperatura colore al variare dell'alimentazione. Questa curva, che non è perfetta rispetto alle nostre tensioni di alimentazione, però vi fa vedere chiaramente come al crescere della tensione di alimentazione, cresce anche la temperatura colore fino ad arrivare a quella nominale, che è ovviamente al 100% dell'alimentazione. Questo gioco per noi è sempre stato molto comodo, molto utile, perché se volevamo scaldare una luce, per cui scendere di temperatura colore, farla diventare più rossiccia, bastava scendere un po' di luminosità, è un trucco che veramente tutti noi abbiamo usato nel corso della nostra storia. L'altro vantaggio è che regolandone la potenza si risparmiava, si risparmiava corrente, perché ovviamente il consumo elettrico necessario, di potenza elettrica necessaria per pilotarla era più basso. L'altro gruppo di lampade importantissime per il nostro settore sono le sorgenti a scarica, tutt'ora usate in varie tecnologie, in varie tipologie. La sorgente a scarica è una lampada dove c'è appunto una scarica tra due elettrodi che viene inserita all'interno di un corpo in vetro, con una miscela di allusionuri metallici. Questo senza andare in tante complicazioni permette di sviluppare una luce molto forte e di avere una resa luminosa molto molto alta. Spesso anche delle temperature colore molto molto alte, che a noi tornano abbastanza comodo, perché poi durante gli spettacoli spesso abbiamo bisogno di potenza, abbiamo bisogno di una buona resa al colore, ai colori, che non è da confondere con la resa colore del bianco, ma proprio la resa dei colori che poi materialmente gli mettiamo davanti, che una volta venivano gestiti con delle gelatine, dei fogli di carta plastificata che venivano inseriti davanti al proiettore, successivamente con filtri di croici, per cui filtri in vetro puri che danno delle dominanti di colore molto più reali e molto più intense. Chiaramente abbiamo anche delle radiazioni UV che in questo caso vengono comunque filtrate spesso dall'apprecchio stesso, dalla costruzione intorno. Vantaggi? Altissima luminosità, parità di consumo. Mediamente una lampada scarica consuma un quarto di quello che è la resa luminosa dell'incascienza, parità di luminosità emessa. Poi, ripeto, ci sono tantissimi parametri, tantissime tipologie di lampade e questo parametro varia a seconda del modello, sia di potenza, sia di tecnologia applicata nella costruzione. Però, insomma, la resa è sempre molto alta, spendendo poco. Sono facilmente controllabili da un punto di vista ottico perché hanno il vantaggio di creare una sorgente pressoché ideale, cioè puntiforme. E questo permette poi di lavorare con delle sagome per andare a fare dei disegni geometrici della luce, di proiettare dei gobo che sono degli apparecchi che permette degli insedimenti metallici, o adesso sempre in vetro di croico, che permettono di proiettare figure, disegni e quant'altro. Sono ovviamente apparecchi però più voluminosi rispetto a quelli dove c'era l'incandescenza perché dobbiamo inserire l'accenditore che genera la scarica, tutta l'elettronica di controllo e quant'altro. Un ottimo vantaggio è la stabilità cromatica nel tempo perché è vero che la lampada perde qualche grado di temperatura colore mentre si consume, però è una perdita abbastanza contenuta, salvo vedere poi quelle purtroppo schifezze che ogni tanto si vedono con le lampade verdi, azzurre, rosa. Lì veramente siamo arrivati oltre a quello che sono i limiti strutturali della durata di una lampada di questo genere. Ovviamente hanno anche delle difficoltà. La difficoltà maggiore qual è? Nello stesso lotto di sorgenti luminose, per cui di lampadine montate, non è mai sempre stato facilissimo avere lo stesso contenuto spettrale. Questa cosa è migliorata molto con l'andare del tempo. I produttori adesso riescono a garantire una resa spettrale molto simile, almeno nello stesso lotto di produzione, perché poi sono sempre le tolleranze di produzione che fanno cambiare queste cose. Non è possibile effettuare una regolazione dell'emissione luminosa, se non meccanicamente con dei dimmer meccanici, oppure con un'ulteriore elettronica lavorando sulla frequenza di alimentazione. Qua la faccenda si complica, diciamo che nei prodotti flicker free che si usano per esempio per il cinema, per le riprese di un certo livello, che anche adesso pian piano verranno sostituite da LED, ma parliamo di sorgenti molto grosse, dal 4.000 a 6.000 Watt a scarica in su, la regolazione viene fatta proprio andando a variare la frequenza, facendola lavorare ad altissima frequenza, anche 10.000 Hz, e poi pian piano andando a variare la frequenza per ottenere una regolazione. I tempi di accensione e riaccensione sono sempre piuttosto lunghi e la fregatura è che se non c'è un alimentatore, hot strike viene definito, inserito all'interno dell'apparecchio che permette l'accensione immediata, tirandogli una botta pazzesca di tensione agli estremi dei due elettrodi, questi apparecchi hanno bisogno di tempo sia per affreddarsi, prima di potersi riaccendere, e poi una volta spenti purtroppo bisogna aspettare questo tempo, questo è sempre stato il loro limite oggettivo. Una resa al colore normalmente più bassa o falsata rispetto a quello delle sorgenti tradizionali, per anni noi che abbiamo vissuto l'epoca di transizione tra le lampade a sorgente tradizionale e le lampade a scarica, il vero problema è sempre stato cercare di farle parlare tra loro, fare in modo che fossero compatibili e che fossero tranquillamente miscelabili, cosa non sempre così facile. Vabbè, fluorescenti, diciamo, in alcuni casi io ho lavorato per esempio con le prime sorgenti fluorescenti dotate di cambio a colore, sono due elettrodi in cui scocca una scintilla e la luce emessa, che è una parte di radiazione ultravioletta, è una parte in luce, viene trasformata in luce bianca, spesso a temperatura colore poi definibile, vedremo dopo come, grazie a un inserimento di fosfori con cui è bagnato il vetro interno del tubo neon. Non voglio perderci tanto tempo, li usiamo veramente poco, ormai sono quasi sempre sostituiti da sorgenti lineari con delle strip led o comunque con delle sorgenti lineari led che permettono di lavorare in modo molto più tranquillo. Erano estremamente fragili, questo sì, molto difficili da smantire a differenza delle moderne sorgenti perché avevano un contenuto di mercurio molto alto e avevano un calo significativo delle prestazioni durante la loro vita lavorativa. Resa il colore mediamente bassa, un effetto prossimità elevatissimo, se voi avvicinate una di queste sorgenti ad una parete, vedrete proprio un segno luminoso di 20 cm, dopodiché siamo a buio, dato che l'emissione poi è su 360 gradi rispetto al suo asse. Esistevano in varie temperature a colore, per cui calda, bianco naturale e fredda. Per anni abbiamo giocato, quando si facevano anche gli uffici, cose di questo genere, e visto che non c'era ancora, per esempio, la temperatura bianca naturale, di mescolanze di tubi neon, credo che tutti quanti abbiano fatto più o meno questo tipo di esperimento. Esistono in moltissime fogge, ormai tutto quanto trasportato in prodotti a basso consumo. Per la parte artilica, e poi ho finito, volevo solo ricordare i tubi neonalta tensione, che sono comunque delle sorgenti luminose, non fanno luce, sono soprattutto decorative, ma sono comunque molto importanti anche nella creazione di spettacoli o ambientazione scenografica all'interno dei punti vendita. Anche qui molto si può fare con dei LED, con delle tecnologie nuove, però teniamo conto che ci sono artisti che tuttora si esprimono con questa tecnologia che viene ricaviata in modo molto analogico, come potete vedere, in una soffieria, dove ci sono dei tecnici che lavorano a fianco dell'artista per creare quello che l'artista desidera. Io ho avuto la fortuna di lavorare con un'azienda qua del Padovano, che lavora veramente con i più grandi artisti del mondo, vi posso assicurare che stare in un loro laboratorio mentre creano un'opera d'arte è una... veramente... è già l'opera d'arte e vederli lavorare. È un mondo fantastico. Io credo di fermarmi qui, Walter, perché poi direi che conta lasciare più spazio alle tecnologie un po' più moderne, come dire. Abbiamo la fortuna di avere in associazione alcuni personaggi che si occupano proprio del LED in senso stretto dalla creazione, dall'ideazione alla creazione del chip. Quindi io chiamerei Erika e le chiederei di fare brevemente un piccolo escursus sul mondo LED. Tutto quello che vorreste sapere non avete osato chiedere. Perfetto. Dunque, io sono Erika, faccio parte di Ild e vengo da una delle aziende produttrici e la suddetta azienda è Sora. Io mi occuperò della parte relativa al LED e per rispondere a Claudio sul perché siamo passati al LED questa è la prima slide, quindi c'è un'elevata resistenza di shock alle vibrazioni, accezione istantanea, minimo riscaldamento, non emettono raggio B, emettono colori saturi e hanno un'ottima durata. Quando è stato inventato il primo LED? Circa negli anni Sessanta era di colore rosso ed è stato inventato da un americano. Ma che cos'è di fatto un LED? Un LED è un tipo di diodo formato da strati di materiale semiconduttore in grado di emettere luce e quando attraversato da una corrente elettrica per mezzo di un fenomeno noto come elettro-luminescenza. Quindi, in maniera più semplice, questo che vedete a destra è la composizione di un LED al passaggio di corrente, se ci sarà un passaggio di elettroni e attraverso questo lo strato attivo, che è poi quello che andrà a definire il colore della luce farà sì che otterremo energia sotto forma di luce. Perché sarà importante fissare questo concetto del LED blu? La scoperta del LED blu attraverso il nitruro di gallio ci ha permesso di ottenere luce bianca nonché anche la luce verde. La somma dei colori luce ci permette appunto di avere tutte le temperature e colore che vogliamo ottenere da quella più calda a quella più fredda, compresa quella colorata. Il nitruro di gallio è stato di fatto l'elemento che ci ha permesso di svoltare da una luce monocromatica rossa ad utilizzare una luce di potenza bianca. Che tipo di LED possiamo trovare in commercio? Quelli più comuni sono gli SMD e i COB. Gli SMD sono i moduli che sono generalmente montati a superficie su un circuito stampato. L'alternativa potrebbe essere il COB, ovvero chip on board. Sono chip LED multipli che presentano una sola grande copertura di fosforo. Come andiamo a gestire il fascio luminoso del LED che raramente emette luce nella direzione che vogliamo? Con i sistemi ottici. I sistemi ottici possono essere delle lenti oppure dei riflettori. Il LED generalmente presenta un'ottica primaria ma è privo di un'ottica secondaria. Quindi sarà necessario arrivare all'utilizzo di lenti che possono essere in PMMA, in silicone o in altro materiale. Tutti i materiali hanno delle diverse capacità nella trasmissione della luce. Il PMMA che trasmette fino al 92%, il policarbonato del 87% e il silicone che ha una trasmittanza superiore al 90%. I riflettori, invece, utilizzano il principio della riflessione. Sono un po' meno coerenti e mettono luce in maniera meno precisa che in una lente e le efficienze sono un po' più basse rispetto a quelle delle lenti prima indicate. C'è un altro elemento molto importante nella costruzione di un modulo LED è la dissipazione del colore. Quindi, fino ad ora, abbiamo parlato della modalità di emettere luce, di come la possiamo andare a controllare. Ora dobbiamo capire come dissipare il calore che viene emesso dal LED. Prima abbiamo detto che è un diodo che ha attraversato la corrente e emette luce. Cioè, solamente una parte dell'energia che lo attraversa viene messa sotto forma di luce. Il resto viene messo sotto forma di calore. Il calore deve essere fondamentalmente portato via dalla giunzione del LED. Quindi, è fondamentalmente importante andare a dimensionare un dissipatore. Il dissipatore è generalmente un oggetto come quello che vedete qui a sinistra. Hanno diverse conduttività termiche e il materiale preferibile sarebbe il rame. Ma, visto il costo, si tende ad utilizzare l'alluminio anche se alcuni dissipatori molto evoluti hanno centralmente dove effettivamente si appoggia il LED del rame. Generalmente, tra LED e dissipatore viene messo anche un adesivo termoconduttivo oppure una pasta. E ci sono soprattutto dei parametri ci sono soprattutto dei parametri che sono interessanti da valutare relativamente a tutto quello che ci siamo detti prima. Partiamo dalla temperatura colore. La temperatura colore del LED è variabile. Quindi, possiamo ottenere infinite temperature e colore da quelle più calde a quelle più fredde compresa luce colorata. Lo step mecada è importante da tenere presente perché ci andrà a dire a livello visivo quanto una sorgente rispetto all'altra potrebbe essere diversa. Ovvero, nel momento in cui io mi approccio all'andare a scegliere un apparecchio generalmente questo sarà un parametro che andrò a valutare perché mi dirà che entro i famosi tre step mecada non vedrò differenza tra la temperatura di colore di una sorgente e l'altra. Altri parametri distintivi sono indici di resa cromatica e TM30. L'indice di resa cromatica è fondamentalmente un valore adimensionale che ci dice come il LED riesce a riprodurre in maniera realistica e veritiera un colore rispetto ad una sorgente di riferimento che generalmente è una lampada elogena è un parametro che va da 1 a 100. Il TM30 invece è un diverso sistema è un diverso sistema di categorizzazione della performanza della lampada ancora non è un sistema industriale per cui è un parametro che si va a trovare soprattutto in schede di specifica di apparecchi provenienti dal Nord America la differenza di base è che il TM30 utilizza un ulteriore concetto che è il gamut quindi ci parla anche di saturazione dei colori che si basa su 99 colori anziché 8 o 14 del precedente CRI e ci definisce esattamente qual è lo spostamento della temperatura colore dell'oggetto che stiamo andando a prendere in considerazione. Grazie Erika allora hai parlato abbiamo finito la parte prettamente scientifica a parte un piccolo accenno magari alle lenti che ci farà Mauro tra poco e adesso vorrei rimanere un attimo sul concetto di colore perché è un po' uno dei temi che in AID affrontiamo di più soprattutto nell'emulare lo spirito di competitività di campanellismo come tra pisane e limornesi tra architetturali e entertainment e il colore molto spesso è uno dei temi cardini di questo confronto vorrei però parlarne con Giuseppe e Valerio che sono tra virgolette i due teatranti con una lunghissima esperienza entrambi ed è bello vedere anche con loro proprio l'evoluzione del colore attraverso tutto questo panorama di diverse sorgenti che abbiamo affrontato. Chi vuole cominciare? Posso fare una piccola introduzione io ovviamente cerco di parlare in maniera più diciamo artistica se vogliamo piuttosto che fisica o tecnica con l'avvento del LED abbiamo dovuto imparare tutti quanti noi a lavorare in un altro modo quindi in qualche modo ci siamo confrontati con una sorgente diversa con una sorgente che tendenzialmente per quanto riguarda il nostro campo non varia tanto la propria caratteristica di colore del tempo varia un pochino di potenza luminosa ma quasi impercettibile per quanto riguarda sempre il nostro campo ovviamente la difficoltà è stata nell'affrontare determinati proiettori e farli lavorare in maniera tale che ci ricordassero in qualche modo quello che accennava Claudio all'inizio avevamo questa tecnica di abbassare l'intensità per modificare la temperatura colore soprattutto con le lampade di incandescenza già con le lampade a scarica tutto ciò non si poteva fare e diciamo il led all'inizio è stata un po' una via di mezzo qualcosa che ci dava la possibilità di lavorare in addizione parlando di led multicolor di sorgenti multicolor e le prime appunto sono state RGB poi è stato introdotto l'RGB bianco poi l'RGB ambra bianco adesso siamo arrivati con tanti produttori che lavorano a sette colori a otto colori a sei colori proprio per aumentare molto di più la gamma cromatica la difficoltà che io personalmente ho trovato era appunto quella di quando tu sapevi che avevi una serie di incandescenze con una gelatina perché poi lavoriamo con il riferimento di gelatine ad una certa intensità sapevi che ti emetteva quel colore potevi modificare quel colore semplicemente modificando l'intensità questa cosa diciamo inizialmente non era possibile con led perché tu andavi a modificare l'intensità e come con una lampada a scarica che l'intensità era appunto modificata in maniera meccanica qua pur essendo modificata in maniera elettronica non ti modificava il colore fino ad alcune piccole variazioni diciamo molto vicino allo zero dove il led rosso è un pochino più presente rispetto ai led blu e gli altri quindi c'è stato proprio tutto un approccio sul lavoro diverso nel senso di andare a modificare il colore in base all'intensità quello che personalmente ho fatto io idem il discorso della temperatura colore ci sono molti emulatori ovviamente sia i led di sorgente bianca con magari bianco caldo bianco medio bianco freddo sia diciamo quelli appunto multicolor che a livello software poi rigenerano in qualche modo le nostre temperature e colori ho fatto diversi collaborazioni con alcune aziende soprattutto nell'ultimo anno e mezzo due anni a livello di software proprio perché secondo me quel discorso iniziale di Claudio è importante era importante mantenermi infatti parecchi hanno a livello software inserito dei calcoli che ho fatto questa roba con Robbe e anche con DTS e ADB principalmente perché appunto c'era sempre questa ok il led figo tra virgolette perché risparmi energia perché risparmi calore perché teatralmente è silenzioso che è fondamentale ma per quanto diciamo ti dà la possibilità di lavorare molto rapidamente in addizione nello stesso tempo ti trovavi in difficoltà quando gestivi le intensità e automaticamente non veniva generata una modifica di colore invece questa diciamo è stata una cosa diciamo un'evoluzione ultima che in qualche modo è stata portata perché perché appunto è un'opzione in più che un designer ha di lavorare e per quanto riguarda il teatro diciamo prosegue e ha sviluppato una metodologia che va avanti da anni ovviamente se parliamo di RGB puro è un led che ormai da un punto di vista artistico ha molti limiti non riusciamo a ricreare quello di cui abbiamo bisogno e di cui lo spettacolo richiede io personalmente sono già due o tre anni che riesco a fare non tutti gli spettacoli ma la maggior parte degli spettacoli con impianti completamente a led e questa cosa mi ha allenato molto anche soprattutto nella gestione del colore ho sempre preferito led multicolor piuttosto che che proiettori a led bianchi perché perché appunto mi davano la possibilità in maniera più dettagliata e precisa di gestire di gestire il colore penso che Giuseppe possa confermare questa cosa e per quanto riguarda invece i sorgenti a led bianco ovviamente la scelta è ricaduta quando c'era maggior necessità di potenza no o appunto distanze situazioni dove avevi molte distanze quindi dovevi lavorare principalmente con la potenza e andare a perdere un po' sulla qualità cromatica perché andavi a lavorare in sottrazione come con tutte le lampade a scarica di cui parlava di cui parlava Claudio il discorso della temperatura colore è fondamentale secondo me appunto diciamo avere questa possibilità che adesso diciamo abbiamo in maniera abbastanza precisa di lavorare da basse temperature colore quindi dai rossi agli aranci fino ad arrivare ai blu quasi diciamo dei 15.000 Kelvin questo è un po' diciamo la caratteristica principale dell'utilizzo diciamo dell'applicazione del led nel mondo attuale diciamo dello spettacolo io volevo chiedere a Giuseppe perché si è arrivato ai sei colori voglio dire aspetta sappiamo sappiamo quello che ci ha detto Valerio quindi una maggiore precisione eccetera eccetera ma la domanda che sorge spontanea è perché serve questa precisione beh la maggior parte dei sistemi innanzitutto sottoscrivo tutto quello che ha detto Valerio mi sentite sì la maggior parte dei sistemi che si usavano fino a fin dall'inizio da quando sono usciti i primi proiettori a led erano basati sulla tricromia sull'RGB che sono appunto i tre colori primari attraverso i quali attraverso la miscelazione dei quali si riesce a creare milioni di colori ma nonostante anche io fossi un ragazzino eccitato e curioso di vedere i primi par a led come se fossero chissà cosa insomma così mi resi conto e comunque grazie anche ai pareri di persone più grandi più esperte di me che insomma nonostante poi creare i miei colori comunque il bianco che creavano per dire non era per niente decente per niente affidabile da allora i passi sono stati come ha detto Valerio e l'evoluzione è stata enorme grazie appunto all'e-design dietro della fotografia e aziende che producono che producono proiettori a led si è prima aggiunto l'ambra magari per poter ridurre quel gap che c'è fra il verde e il rosso per creare colori più caldi per esempio con l'RGB io ricordo fare un giallo era quasi impossibile ecco era una cosa era una cosa tremenda e inguardabile oltre vabbè però ancora l'ambra ci si rese conto che non lavorava su tutto lo spettro quindi ci uscirono fuori dei video dei proiettori che lavoravano con l'RGB più il white il white aiutava nel migliorare il bianco e anche a rendere meno saturi certi colori magari più spinti però ancora i risultati non erano soddisfacenti diciamo che dopo anni dopo un percorso più o meno tortuoso insomma si è arrivata al lavoro con i sette colori una delle cose che ho notato è che l'inserimento del lime è stato quasi ha fatto quasi fare uno step successivo quasi il lime è un colore che all'interno dello spettro all'occhio umano non è visibile facilmente però è una componente che è presente in tanti colori che altrimenti sarebbero difficili da creare ecco il lime è aiutato tantissimo nella creazione di colori più o meno caldi e anche nella creazione nell'aumento della qualità del bianco adesso troviamo proiettori a led che lavorano come diceva Valerio a sei sette colori diciamo che quelli a sette colori per fare un esempio può essere l'RGB più l'Indaco c'è l'Indaco l'Ambra il Ciano e il Lime ce ne sono altri che lavorano a otto colori per dire ora è uscito un pannello led che ha anche il deep red che si usa un pannello che si usa prevalentemente nel cinema poi è stato nel tempo potenziato il rosso è stato aggiunto il deep blue per lavorare con certe tonalità per fare il dark magenta o insomma lavorare su un certo tipo di tonalità si è stato proprio fatto un lavoro proprio anche sul rosso proprio significato molto la tipologia e la qualità del rosso nel tempo perché per renderlo diciamo un po' meno elettrico ma più intenso esatto e questo è stato molto utile sì sì e diciamo che adesso quello che abbiamo di fronte insomma il tipo di materiale col quale si lavora ha una qualità rispetto a 10-15 anni fa che è incomparabile ecco si riescono a creare tantissimi colori con una grande luminosità rispetto a prima e è un bianco affidabile io molte volte nonostante appunto parlando di temperatura colore molti proiettori a led abbiano al loro interno quasi come se fosse una ruota colore che va dai 2007 fino ai come diceva Valeria più di 10.000 gradi Kelvin spesso magari mi diverso più a fare un bianco usando i sette colori i sei o i sette colori questo poi sta a noi ecco poi naturalmente per quanto per quanto l'evoluzione è stata fatta per quanto adesso è tutto più facile tutto più malleabile tutto più immediato se poi dopo vogliamo parlare del gusto personale ecco più o meno artistico della qualità della luce vabbè questo poi magari ne parliamo cioè fare un paragone appunto con l'incandescenza mettendo appunto un filtro di conversione sull'incandescenza o una gelatina colore insomma esatto va bene poi io chiuderei il cerchio con due cose che non abbiamo ancora detto uno è non è stato spiegato la misura della luce il lumen il lux la candela sono tante terminologie che si sentono spesso in giro e con le quali si fa spesso molta confusione io non so se Luca o Erika vogliono rispondere a questa domanda velocissimamente sicuramente poi Erika ci farà anche un piccolo aneddoto una piccola dimostrazione figurativa di che cos'è la differenza tra le due Luca vuoi intervenire tu facciamo parlare Erika come vuoi inizio a dire qual è la differenza fondamentale tra il lumen e il lux riprendo un esempio che ha fatto Erika poi è diverso per mi fare un altro sì assolutamente durante una delle nostre conversazioni tutti quanti insieme in ILD e andando a caratterizzare la differenza tra due come se avessimo una fontana quindi se noi prendiamo una fontana dove il cuorga acqua possiamo considerare effettivamente il lumen come la quantità di luce che viene emessa da un in questo caso un LED che è comunque una ponte luminosa e il lux è il risultato su una superficie quindi quello che arriva effettivamente su una qualsiasi superficie lo andiamo a considerare se vogliamo prendere la fontana in questo caso il getto d'acqua che esce fuori dalla stessa può essere considerata volumetricamente il lumen mentre il lux è il risultato che abbiamo a pavimento per semplificare un po' il concetto con quello che è la differenza tra come andiamo a considerare queste due grandezze come le sfruttiamo noi all'interno del calcolo del lux che sono le due grandezze cardine che utilizziamo spesso le grandezze cardine assolutamente che caratterizzano più luminose Erika vuoi aggiungere qualcosa? ma ripeto l'esempio del rubinetto visto che era tuo va bene l'esempio del rubinetto no è abbastanza banale è stato veramente chiaro è bellissimo sinceramente è fantastico è molto banale se apro il rubinetto tutta l'acqua che esce dal rubinetto sono i lumen se ci metto sotto una bacinella l'acqua che la bacinella raccoglie sono i lux detto anche in maniera più scientifica i lumen che arrivano su un metro quadro ci danno i lux quindi quanti lumen a metro quadro mi definiranno i lux sono generalmente delle prime due componenti con cui ti vai a generalmente confrontare la candela è più relativa all'angolo di emissione quindi se pensiamo alla pila io avrò una certa quantità di lumen che è definita a seconda che vada a stringere o allargare il fascio andranno a cambiare il numero di candele emesse dalla pila a parità di lumen perché la sorgente è sempre quella quindi ecco questi sono gli esempi proprio valtici arriviamo all'ultimo step della sorgente luminosa che negli ultimi anni ha avuto un'evoluzione talmente ampia che ci ha permesso addirittura di usare sorgenti meno potenti e di ottenere un fascio luminoso più potente di prima che sono le lenti no Mauro Mauro lavori in un'azienda se ci vuoi anche raccontare un po' di te velocemente sì ciao ciao a tutti noi sono Mauro lavoro in questa azienda si chiama Sassos facciamo lo Sessone o Sessone per il lato quando si parla di città della luce parliamo praticamente di ecità e quindi di lenti e di settori è stato detto già un po' tutto quello che vorrei semplicemente dire è che quando si parla di lenti vedrete che i sassi luminosi vengono diciamo tutti quanti lavorati per possedere sare quello che poi abbia bisogno nel senso che se lo uso una lente è perché ho bisogno che il sassi luminoso sassa esattamente quel lavoro mentre invece quando parliamo di settori è troppo difficile perché tutta la parte centrale del legge non viene assolutamente elaborata e quindi sta passando a mettere un po' per lo che vuole all'interno dello spazio mentre invece tutta la parte predesenta del legge viene elaborata dalla disfettore spazio di spazio spazio solamente con delle efficienze più basse di spazio valente perché lavora con un principio diverso per produrre la riflessione esistono dei modi per procedere solamente diciamo sa lavorare tutti e due i sistemi solamente più cose metti davanti e più resistenza si abbassa e infatti questi semplici sistemi ci fanno in maniera abbastanza custom per tutto e resto è stato detto già un po' giusto per dare un'idea di cosa significa usare un'oxida piuttosto che un'altra abbiamo fatto l'esempio del dubinetto e della bassinezza per sperare un sanzino un po' più in maniera semplice e distorsi delle sanziere se io metto un tubo e una sanna dell'acqua e apri il dubinetto S tutto quanto il diametro della sanna dell'acqua mi consente di duccare una quantità di x x se io questa sanna la sanzio e quindi comincio a diminuire il passaggio dell'acqua la pressione dell'acqua aumenta dandomi la possibilità di aumentare la quantità di acqua nel periodo e quello c'è alzene a seconda lente quindi se io ho giusto a pensare un esempio pratico ad una certa altessa io uso una altessa una lente a 90 gradi accergo probabilmente 300 luce se io scrivo il sasso a 60 gradi a qualità di basso probabilmente di graddotto quindi anzi al discorso dell'assistenza bisogna saper un po' pesare c'è anche un altro elemento c'è anche un altro elemento che non è in tutte le schede tecniche ma è il picco il picco centrale di emissione in modo tale che se devi andare a fare una comparazione ok sapere come lavorano il led e la lente ok se vai a prendere quel parametro lì che quindi ti dice come sta uscendo la luce riesce a andare a fare un paragone numerico di come si sta comportando di qual è la performanza di uscita della luce esattamente nel picco di maggiore emissione i dati i dati per sono veramente semplici non è proprio semplice io devo avere ad esempio la stessa facilità del materiale plastico nel momento in cui ho usato diciamo per esempio 3 mna se io luce di una salsenda e però le sessanta le due stasi sono completamente diverse vi darei un limite di approfondimento perché voi umani Claudia vorrei aggiungere qualcosa per qualsiasi informazione contattate Erika o Mauro no io volevo solamente fare una facile battuta ma viene distinto dopo aver ascoltato tutti i nostri colleghi cari ascoltatori non ci stiamo trasformando in idraulici per sopperire alla crisi del coronavirus semplicemente il modo più semplice per esprimere ecco vorrei io sono il burlone del gruppo per cui ci tengo a mantenere questa immagine a proposo poi ti do la parola no perché questa cosa del rubinetto cioè la uso spesso anch'io per parlare della temperatura colore perché tu sotto il rubinetto hai un colore rosso e un colore blu se tu direzioni il rubinetto verso il rosso esce acqua calda verso il blu acqua fredda ecco quindi il rubinetto che può essere paragonabile la contrapposizione tra la luce del fuoco e il cielo ecco insomma della spiegare la temperatura quindi il rubinetto serve sempre ecco ormai in quel caso mi parlo del cielo è presente il cielo al tramonto sì anche anch'io parlo del fuoco della candela poi del cielo però il rubinetto arriva è più immediato il rubinetto è trasversale diciamo esatto più esempi io invece ho fatto un'altra cosa che gli scienziati ce li abbiamo i tecnici ce li abbiamo i creativi ce li abbiamo il marketing c'è potremmo anche fondare un'azienda romani appunto lì poi vedremo io voglio riprendere due argomenti adesso entriamo nella parte più più easy perché veramente spiegare scientificamente e voi siete stati bravissimi a rendere tutto molto light molto leggero vi faccio i miei migliori complimenti entriamo un po' più della chiacchiera io vorrei dare un primo spunto allora si è parlato restiamo nell'ambito led restiamo nell'ambito colori adesso vorrei un po' giocare di confronto quindi ma voi dell'architetturale è questa enorme differenza il know-how dell'entertainment è andato avanti anni in luce mentre di là si fa ancora fatica incamerare questi concetti di 6-8 colori multi-chip eccetera eccetera allora intanto probabilmente c'è un processo decisionale che non è precisamente sempre nelle mani del lighting designer quindi chi maneggia il lighting nell'architetturale tante volte è un semplice architetto che non ha nozione di lighting quindi partiamo da questo il processo decisionale a volte passa nelle mani di qualcuno che non sa neanche definire cos'è la temperatura colore della luce non sa che si misura in Kelvin non sa quel discorso del più caldo o meno caldo e quindi poi gli andiamo a riraccontare un'altra volta la storia del rubinetto quindi punto primo diciamo che chi maneggia la tecnologia non è sempre la persona più giustamente preposta la seconda cosa è una questione proprio di approccio alla composizione nel senso che si tende sempre a voler utilizzare corpi illuminanti piccoli più piccoli micro e se posso non vederlo sono ancora più contento quindi diciamo che probabilmente c'è un discorso poi me lo direte più voi perché siete chi ha nelle mani questa conoscenza ma non so se effettivamente andando a miniaturizzare un corpo in una capocchietta da un centimetro posso avere i famosi sei colori e soprattutto come posso andarle a gestire c'è anche un altro tema di probabilmente di ritrosia da parte dell'utente finale poi di andare ad avere in casa quelle tecnologie che di base presuppongono che ci sia stato qualcuno che te le ha gestite quindi già c'è una c'è una sorta di ritrosia perché se devo pensare che appunto devo avere un programmatore che mi mette insieme gli scenari qualcuno che capisce gli scenari un pochettino poi devo testare l'ambiente quindi questa persona dovrà tornare poi quindi ci saranno dei costi eccetera ed ecco che arriva Alexa arriva Alexa e semplifica tutto quanto con Alexa accendi le luci e quindi probabilmente c'è intanto tutta una dinamica che è visceralmente diversa e soprattutto il più delle volte almeno mi sono accorta che tantissimi di voi magari vengono dall'accademia dal teatro eccetera e tanti di noi dell'architetturale vengono dalle facoltà di architettura dove tendiamo ad avere proprio due approcci diversi se io devo pensare di fare un correttivo con una gelatina su tutte le lampadine che ho in casa io penso potrei impazzire ciò nonostante non nascondo che ho girato le gelatine sulle più recenti per fare i barri solcolorati quando l'RGB non c'era e non sapevamo come maneggiarlo perché io mi ricordo i primissimi esperimenti che ho fatto con gli RGB si parlava di centraline master e slave forse sta roba nel teatro non se ne è vista e non sapevamo come effettivamente poter coordinare una certa serie di colori di una certa serie di lampade eccetera eccetera quante caramelle rossana ti sei mangiata quella volta parecchie devo dire insomma c'è un approccio c'è un approccio di base diverso c'è anche a volte un approccio dei produttori che non essere il produttore dell'architetturale tende molto a volte a guardare al compositivo cioè come è fatto l'oggetto ok la sorgente è un di cui di quell'oggetto quindi quando io ti propongo una sorgente tu andrai a guardare la qualità della mia sorgente la qualità dell'ottica quanto è precisa il fatto che c'è una certa lavorazione il fatto che non sporca che l'emissione è uguale a quella di un'alogena eccetera eccetera ma quando io ti presento un corpo illuminante allora la qualità della luce nell'architetturale diventa un di cui è un di cui di un oggetto che deve funzionare a livello dimensionale di finiture compositivo di costo deve funzionare a talmente tante varianti e variabili che il dire non mi interessa che sia un oggetto da diametro 30 centimetri io voglio gli 8 colori 10.000 colori perché devo fare una certa distanza una certa profondità non abbiamo neanche probabilmente le stesse necessità di scusami non abbiamo neanche non lavoriamo nemmeno sugli stessi spazi uno spazio domestico molto più contenuto credo che non un palco di un teatro se voi il punto di incontro che è il famoso architainment parliamo di lui non è un interno un facciato il retailment adesso si adesso sta cambiando sta arrivando perché non si può più pensare visto che si parla molto di experience però questo è più nel retail però il tema dell'experience adesso per offrire una customer journey più completa più interessante sta arrivando sta arrivando forte allora si ci si comincia ad approcciare al lato esperienziale rimane però che siamo un po' delle cariatidi nel nostro settore arriviamo sempre con un po' di lentezza però ci arriviamo credo però che rimanga un po' questo partiamo da due partiamo da due presupposti diversi con positivo dimensionale di aspettativa dei clienti di fruttore finale ecco diciamo sono queste le variabili che guidano un'altra cosa che mi è venuta in mente carina è che adesso con i 6 7 8 colori comunque stiamo paradossalmente tornando indietro alle gelatine perché l'approccio poi parte dalla gelatina nessuno si mette a smanipolare su 7 8 fader per arrivare a un colore no Valerio Giuseppe eh sì sì diciamo che un po' ci lavori sui singoli colori ovviamente con le nuove tecnologie però sì diciamo tendenzialmente molti già ti danno delle basi di di gelatina già pronte diciamo in qualche modo poi magari tu le vai a modificare no eh anche quello diciamo è un lavoro che nel tempo è stato molto migliorato sia dalle case produttrici in collaborazione appunto con i professionisti del settore io personalmente ehm come riferimento c'ho sempre le gelatine però ehm non sono sempre uguali per tutti gli spettacoli cioè nel senso vado con un esempio eh andiamo con un lì 201 oppure con un lì 117 non ce l'ho sempre uguale per tutti gli spettacoli nel senso dipende un po' da dalla scenografia fondamentalmente quindi me lo vado un po' ad aggiustare sempre per adattarlo no a quello che è quello che deve illuminare e se poi eh quella stessa paletta che è diversa magari c'è lì 117 Mary Poppins lì 117 Ghost no faccio un esempio ehm li vai a vedere in un ambiente nero vuoto a volte sono molto diversi tra di loro no proprio una questione un po' sì non tanto di misurazione ma di di sensibilità e poi e poi anche lì eh uno ha in mente no perché inevitabilmente io nasco dall'incandescenza anche se l'incandescenza che andava ad esaurirci ma sempre dall'incandescenza ehm ha in mente quel colore no anche ad una certa intensità quindi torniamo sempre lì quindi magari lo vai aggiustare magari eh magari vai aggiustare eh la base di quel colore su una temperatura no quindi fai 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 un duecento uno eh su un par no che non è un duecento uno su un sagomatore no con un'altra lampada diversa eh che non è un duecento uno su un fresnel da cinquemila cioè quindi già quelli sono tre colori diversi e un po' diciamo cerco di ricrearli in base allo spettacolo di livellarli sì già che è qua Valerio io lo sfrutto ma questo già che sei qua allora nell'architetturale la parte importante è riprodurre il colore esatto di un oggetto soprattutto se ho messo in casa il quadro se ho rimesso il copriletto 20.000 euro mi è capitato di fare dei lavori dove appunto l'obiettivo principale era quello ovviamente quindi esistono a mantenere la fedeltà della riproduzione del colore sì o anche saltarli e poi a livello drammaturgico narrativo a volte modificarli completamente nel senso non necessariamente un oggetto rosso no lo andiamo ad illuminare di bianco con una temperatura colore ideale ed un indice di resa cromatica ideale per tirare fuori quel rosso a volte lo andiamo ad esaltare con del rosso con della luce rossa quindi la vorrei in additione sì esatto a volte lo vai a cambiare provi ad andarlo a cambiare dai sopra con della luce blu allora gli vai a cambiare un pochino il colore dipende un po perché la differenza che è una differenza insomma magari io ho avuto qualche piccola esperienza diciamo nell'architetturale con una chiesa con qualche mostra ovviamente tutti guardavano esclusivamente agli affreschi nella chiesa al colore del restauro che fosse esattamente diciamo il più fedele possibile la non invadenza del corpo illuminante idem diciamo in una mostra in un museo a parte diciamo magari i percorsi quelli un po di arrivo di uscita che lì si poteva un pochino giocare di più se vogliamo nel teatro la differenza è che c'è una storia da raccontare sempre in qualche modo quindi infatti quella la differenza è quella quindi fondamentalmente anche lì il colore va molto in funzione della storia del momento in cui siamo nella storia perché a volte anche per motivi di spazi di tempi e anche di budget la stessa scenografia deve in qualche modo rappresentare tre o quattro luoghi diversi e quindi lì ci devi andare proprio sopra anche a livello grafico volendo cioè nel senso non necessariamente è solo a livello cromatico ma anche a livello grafico a livello di incidenza di provenienza è proprio infatti penso che anche la nostra la differenza tra quello che dicevi Erika e noi che possiamo e dobbiamo lavorare sia sul realistico creando ambientazioni più o meno quotidiane con diversi momenti della giornata dal notturno sia con un po' più di ispirazione c'è capito quell'oggetto che è solitamente bianco lo puoi fare di un altro colore in un determinato momento perché per evocare una certa cosa perché ti ispira a quello bene termina qui il primo appuntamento dedicato alla fisica della luce con un confronto appassionante a tratti divertenti speriamo utile per quanti ci stanno seguendo in questo momento io vi do appuntamento al prossimo alla prossima video lezione chiacchierata sulla sostituzione dei proiettori convenzionali con le tecnologie LED nell'ambito dello spettacolo e non solo ci vediamo prestissimo ciao ciao